raga scusate ah raga scusate per la live di prima perchè si è chiusa perchè volevo aprire TTA ma poi mi si è chiusa la live scusate raga madonna mia mi si è chiusa anche per me sono così scemo raga vabbè dove ce la dobbiamo fare dobbiamo quando riversiamo il che lui ha tutto la sala giochi soldi lamborghini caro armati ma lui non è uno scioppone ve lo dico eeeh eeeh ah proveriamo a fare il colpo al casino diamonto sarebbe un colpo sarebbe che noi dobbiamo rapinare il casino per prendere un milione e mezzo di soldi e tantissimo eh ho 5 milioni e mezzo ah raga lo sapete che io ho una fidanzata si chiama sofia c'ho tre belle fidanzate sofia una italiana sofia no due una tedesca che è di un amico di mio padre rancesco paliari che fa palestra e ha vinto tantissime coppe scrivetemi perché sono tutte e due due belle sono così belle che sono indeciso no perché la tedesca non l'ho mai vista e poi sofia mi dà tantissimi baci mi dà tantissimi baci io sceglieri sofia non so perché questo madonna mia si è studiato con su live no meno male che non la guarda meno male che non sa chi è il mio nome ok raga se non va a chiudo il gt e lo riapro ah ok ha fatto guardate io quanto sono chic bella sono eh una bicicletta bici raga sono poverissimo perché ho spesso tutto vabbè quando faremo il colpo avrò ah oh raga vi devo fare una cosa che non ve l'aspettate prima di tutto mi sono fatto la barba su cta guardatela aspettate eh non la vedete vabbè poi guardate aspettate tutti gli accessori capelli rossi capelli capelli rossi ma in quantissima le robe tantissimi siamo in una sessione raga mi sono fatto i capelli rossi vi piace? no a me si no raga mettiamo la buuuu ah mettiamo la bici dentro il garage se no questa me la distruggono subito l'altra volta ho messo la mia macchina fuori il casino e me l'hanno distrutta subito oh ma non si può mettere no perché non si può mettere? no raga peccato no raga secondo me sul lavoro si metteranno il lavoro del casino che tutti i mandati del casino secondo me che costerà 10 milioni 10 milioni e mezzo secondo me ma raga non c'è la mia bici come faccio? voglio uscire voglio uscire ok dove è la mia bici? eccola la dobbiamo mettere in un posto sicurissimo se no qua me la distruggono in 002 secondi qua perfetta speriamo che non la vedono raga io ho pure questa pistola che spinge tutti guardate guardate bella guardate il colore è bellissimo no raga c'è il nemico che ormai è entrato è la madonna sono due rincoglionoti due rincoglionoti dai raga dove è cacchio il casino? là? si dobbiamo rubare una macchina ma sennò quelli in 002 mi ammazzano subito subito corri corri raga la mia bicicletta dove cacchio? dove cacchio è il casino? raga raga veramente dov'è il casino? raga non c'è ah eccolo io che sono cieco no raga quanto sono cieco però eh devi correre devo correre devo correre già riscranti eh che no dai ma quel c'è un botto che corre così raga faremo l'altra strada allora dai che palle raga stupiamo sta macchina e codiamo andiamo da questa parte dai guardalo che bordalo come sta tutto là non vuole far entrare la gente eh ma si deve fottu guardalo guardalo no fiii dai colpo alla flecca no schifo colpo alla flecca che cacchio è raga aspettate raga devo sempre controllare se siamo online ah il mio amico si chiama xx to play xx su youtube iscrivetevi al suo canale aspettiamo ok finalmente ah madonna mia che impresa che ho fatto tanto quello la avrà la polizia no raga non me lo fa girare sicuro delle volte si bugga non me lo fa girare guarda eh vabbè che cacchio c'è GTA di mer ah però sono una figata della madonna toiti oh vi togliete dal palace o no? oh raga i 1270 devo spendere per qualcosa ho sbuonato tutto torrateli niente posso comprare niente posso combare voglio un relodio oh è rotto questo colpo alla freccia non vuole andare nessuno altro colpo alla freccia raga io ce l'ho già un orologio ma la moglietta non lo vede ce l'è troppo è un attico di luce ma vaffanquicchero raga io posso comprare tutto quello che voglio proprio diciamo bello ovvio che no peccato raga sarebbe stato bellissimo ecco è proprio il completo il set eh costano tantissimo eh raga non so che scegliere bella e vabbè non posso comprare niente proprio posso comprare tutto almeno questa e vabbè ah e vabbè no questa qua che mi sono comprata è bellissima una figata della madonna a petto nudo ragazzi no ragazzi togli subito togli subito mettiti subito la maglietta metti subito la maglietta ok mi sono andato la maglietta mi sono visto verde militare questo no peccato questo ci stava di brutto vabbè fa niente usciamo raga prendiamo un whisky un drink prendiamo dai raga un altro ma che ti ridi l'ulter sa me ma vabbè fa nchiule vabbè fa nchiule chiule fai un altro su su allora l'ultimo l'ultimo da 55 dai stai iniziando l'effetto si ah finalmente che adesso non così stanno questo è il samuel no raga questa è la faccia di samuel ah ah su su cia oh no no rinaldo vuoi un altro drink su su signorina su signorina dammi un altro drink dieci da cinque no non io dico posto ma molto pagato eh eh vabbè ah la birra la devo prendere io proviamoci un po' di birra beviamo tutto fratelli ho sbondato tutto così faremo il mio verso agosto per sognare così sarebbe Francesco da grande maia no la macchina non la prende ok raga scusa se non parlo vabbè no caprese no 10.000 gettonissimi no raga fammela girare sta scema di ruota raga l'ho tirata ieri oh del cacchio sta mierda raga io voglio sta lamborghini raga non mi ne frega niente se dovresti pagare 100.000 voglio sta lamborghini aspettate raga un attimo raga ancora niente samuel ma che cacchio è questo che è sto qua dove cacchio mi vuole portare ho paura di sto qua guardate prima la stessa ma togli 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 che cacchio mi vuole portare Raga un attimo Ok Ok ragazzi Sono andato in certo gioco Finalmente funziona Raga Fra come stai Ma non parla a nessuno No fra Madonna mia fra stai per vedere la polizia Madonna mia fra Da fra un po' di musica metti Madonna lascela Lascela no 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 che schifo Lascia questa Frai frate Frai frate Qua ci ha reto il palle Ehi Raga ma ne cazzo Ancora Quanta bella la faccia dai brah Sì, è vero. Sì No fra, è più bella questa Ora No fra, è troppo bella E' due Il suo garage Stiamo andando No raga dove stiamo andando? Dentro il suo garage Oh Si è bloccato tutto Che cosa? Ma qui sta di tutto No raga, ma qui sta di tutto No raga Lo posso guidare io? Questo ha di tutto Lamborghini Più ricco di Samu Scusa Samu se stessi guardando tutta live Ma Questo ha di tutto Non posso fare niente io E' uno E' uno E' uno E' uno E' uno E' uno No, no, ehi, non prenderla, bravo. Questo è... Che cacchio di cosi ha? Quante cosi ha, raga? Lamborghini, Ferrari, tutto! No, e questo dov'è? No, lui non va ne dentro. Ah no, eccolo. Ah, yao! Che fai? Oh! Che cacchio fai, fra? Perché mi hai dato un pugno? Oh, ahia! Da-da-da! Da-da-da! Quattro figliosi Wow, se ci fosse pure Samuel, raga sarebbe stato bellissimo, raga se ci fosse stato pure bella madonna mi, che zanina no raga non posso accendere aia no raga dove sono morto, no amico, amico, corro da te, vado in una macchina subito, sono da mazzurra, chi è sta auto, chi lo sa, ma se ti devo riprodere quel corri, dove è? non è che ci provide che ci sono propria divo and i to E' la mano 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 Questa vale la procchia Oh! Guida! Prendi questa auto no amico dove cazzo il mio amico sono andato a un mazzo eccoci amico fai fai bella rai bella rai bella siamo due scivilli cazzo bro scappiamo invece di si ammardato io ue la raga ma quante macchine la prende sto qua ue la raga ma che cosa sto qua aspettate raga ue raga guardate che bella dove siamo andati se no non voglio non voglio fare il nemico no il mio amico mi sembra morto screw il mio amico dove cazzo è andato tutto questo il mio amico dove amico amico tu raga dove vai il mio amico la che ci va la amico aspetta devo andare sotto corri corri dopo assalto corri tenente assalto amico 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 bella bello 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 Grazie a tutti. No, raga, io scendo la stu cosa, va schifo. Amico! Dov'ho passato? Sotto. No, l'amico, l'amico, l'amico mio, l'amico mio. Corri, corri, corri. Dove andare a prendere, raga. Togiti tu! Prima che si chiude da solo. No, amico, amico. No! Ah, è morto! Che cosa è sano? Eccolo, eccoti, guarda, eccoti! Guarda, 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 dove incepila, dove incepila. Uè, madò! Oh, quelli della squadra ci sta! Dove che voglio sapere quelli della squadra? Ha un mitragliato. Sto correndo a cento radi, a cento metri. Come cacchio fa? Prendoli. Raga, quello che voglio dire. Un amico! I miei amico! Dove cacchio è andata? Quello o quello? A me sembra quello. Quello la che se... Ruba, ruba, ruba sta auto bella, brutta. Corri, corri! ora mi ha ancora sti auto che sono lentissime fermati fermati no raga dove è il mio amico il mio amico è morto ma dove è ok io provo la quale andiamo che ho fatto io raga perché mi sparano non è questo le ferie che ha rotto il cacchio allora chi è lui è le ferie che non è io raga è lui ma dove sta andando che stai fermando là devo prendere una mano oh dai no 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 la posso no raga dai la volevo la voglio no cacchio oh amico amico vieni vieni scappa scappa via scappa bello siamo che vuoi fare amico amico che fai amico te l'ho detto amico te l'ho detto amico tu che fai ce l'ammazza amico però che fai tu eh tu non mi ascolti toiti tu signor no signora signor no non ci siamo frega ma il mio amico dove è eccolo lo vedo non è eccolo dove è là 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 speriamo che è lui tanto ma caccio ma faccio i tuoi ori faccio i tuoi ori prima lo dice a tua mamma io vedo in strada tutto solo aiuto vado in strada scappare frada eccolo si è lui è lui prendi fra 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 ci sono per io saramo tutta sparamo tutta povero guarda lì ha sbagliato tutto no raga non permette che strada è sta wow fratelli dove siamo andati aspettate raga ok raga dove siamo andati vabbè siete da trasportare guarda che sta andando ma questo dove sta andando c'è niente qua aspettami ma chi c'è c'è Steph aia oh oh ma che cosa vuole da me che ha fatto di male no raga però eh se continui a fare così che mi picchia con l'ascia no almeno tanto no non voglio fumare sei scemo no ancora battene no vaga ancora mi vuole ammazzare con l'ascia ok cazzo c'è quella faccia tutta brutta no che male però che sei fra te lo dico ok che sta andando dai vieni qua da mammina no oh prima mi picchia oh raga se mi picchia io lo picchio eh non mi avrò niente no madonna crisi sei scemo ok corri corri dove è andato aspetta aiuta dai come una sardatella ho capito dai aspetta oh raga vedete aspetta proprio quanto vuole fare come fai a scegliere imbecille ah no però ho un po' un imbecille perché mi picchia con l'ascia oh raga se mi picchia gli sparo un colpo un po' in testa no un pugno il do non me ne fai da niente mi ha già picchiato due volte mi ha tolto non ho più cure non ho più cure per colpa sua oppure c'ero euro e non me ne posso neanche comprare no vada no non dico io dove dobbiamo andare dobbiamo andare al casino basta no ci siamo incontrati e là devo tirare la ruota quindi andiamo al casino dai devi inseguire la strada dai fra no dai fra per favore eh vabbè però penso di la strada ah sì grande fra eh proprio grande ma fai anche i cucchi dai dai perché non vuole dare il casino inseguire la mia strada se ne fa un max e vabbè perché se non esce sempre vabbè risale inseguire la strada bravo finalmente 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 raga dai manca poco raga forse in un'altra live metterò la webcam raggiungiamo 30 like e metterò la webcam in un prossimo live in una prossima live ma se la trovo se no nella prossima live non la metto nell'altra prossima la metto o basta oh raga si sta schiantando non va bene e vabbè tutti che prendono il checkpoint per avere soldi e basta ma raga meno male che segue la mia strada no no questo mi avrebbe portato a milano siamo a dove siamo allo santo se mi avrebbe portato a milano finalmente scolpi pacifico standard che signora che fai però fa cagare ma che cosa ma perché ha bananato l'auto che cosa sta succedendo aiuto è morto no raga raga entra una macchina dentro perché c'è la polizia no raga queste macchine sono di ok meno male che c'è la sua ma non la fa sturbare attimo c'è la polizia poi vedrà no 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 è il mio amico è morto no raga dove è il mio amico è possibile non avrebbe un certo è lui il mio amico si è il mio amico no non morire avvo che non è il mio amico scherziamo si è lui è il mio amico 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 ma madonna mi ha messo la polizia no entra subito corri madonna mi ha messo la polizia non posso neanche chiamare l'ester perché costa troppo si costa troppo pagarlo quello vuole solo i soldi guardate 600 euro vuole 600 euro vuole 600 euro vuole ok wow weirdo no no non me la fa tirarsi dice per tirare la ruota della fortuna torno domani perché aspettate ok ancora ancora due ore mancano siamo entrati siamo entrati ok ok giriamo la ruota non me la fa tirare tanto raga sicuro se me la faccio ora che io chiedo gli occhi eh via una altra chi c'è fammi arrabbiare di muo e ti ammazzo la vita zitti ah fammi la tirare raga aspettate un attimo aspettate un attimo un attimo un attimo un attimo ok raga ci sono raga sono un poverato non ho niente stai a lavorare no stai a lavorare stai a lavorare non ho niente che stai facendo tolsi oh io spostiamoci oh no 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 proghi proghi no 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 tetto andiamo sul tetto voglio fare una cosa bellissima aspettare ma aspettiamo che non 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 stai asciustando no ma perché si sponde da solo ma non voglio parlare con te tu chiudi paragadute no 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 non mora mora no no raga devo risalermi tutto scale scale dai ci stanno le scale per forza che che cazzo fai tu vieni qua oh vieni a venire non niente vieni e ora possono rimanere pesanti scusso stavo scavalcando è morto è morto aiuto dobbiamo andarsene al tetto non funziona guarda tanto la polizia non mi può ammazzare da qui la polizia te ne vai devo fare il coso allora andiamo qua per sicuro ah le scale le scale sono la mia vita le scale sono la mia vita non le ricordo la mia vita non le ragazzi perché ho un hp perché sono caduto come un imbecilla ma poi ma non mi sono messo paracadute che bot che sono raga paracadute che bot che mi sono buttato ma poi guardate raga che era successo si era teletransportato vai scappa e raga l'ha voluto lui sia io io non posso dire molto perché era ma c'è ma c'è 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.